Ciao a tutti, è un video un po' così improvvisato, come vedete stiamo ancora qua, volevamo fare un unboxing perché praticamente ho fatto un ordine, più per lei che per me, ho fatto un ordine in un negozio perché io seguo su Instagram Greta Santarelli che ha un negozio che si chiama Pink Bubble che sta a Roma e il negozio di per sé sta anche vicino a dove abitavo io a Roma, purtroppo io non abito più a Roma e quindi la guardo su Instagram e guardo un po' diciamo tutte le cose che vende e lei praticamente oltre a fare le spedizioni classiche fa anche le mystery box, uno sceglie il suo budget diciamo e lei mette in base a quello che tu gli dici infatti chiede taglia colore eccetera, in base ai propri gusti lei crea questa mystery box. Allora visto che la signorina qua è in una fase in cui non ci vestiamo di rosa perché è troppo da bambini e cominciamo a metterci il nero, le paillettes e tutte queste cose perché è complicato comprargli delle cose, cioè te la devi sempre portare dietro perché adesso se io gli compro qualcosa tanto ne va bene, però nel frattempo mentre io me ne ero comprata un cappello dell'aria di Asterosa lei subito se l'è preso, comunque alla fine è questa la verità che io ho sempre ragione. Quindi ho diciamo chiesto, ho ordinato questa mystery box e adesso l'apriremo insieme. Questa non è che vi arriva così, vi arriva con il corriere di Bartolini, quindi con la busta di Bartolini dentro, è fatta in questo modo. Non l'abbiamo ancora aperta, quindi prego. Allora vediamo che c'è dentro. Vediamo un po'. All'interno c'è un'altra busta. Aspetta dai da lì. Un'altra busta di carta c'è dentro. Allora. Allora. Anche fuori la prima cosa. La prima è. Oh mio Dio. Cominciamo. Un vestito. Già facciamo un danno. Un vestito grigio. Grigio. Con il buco qua. Con il buco. Buco. Con il buco. Guarda c'ha il buco sia sulle spalle. Sia qui che davanti. Penso che sia quello. Sì il davanti. Ok. Al centro. Questo lo metto io. Sì. Te lo metti dentro. Ed è un po' sul lunghetto. Quindi penso che Greta abbia pensato che questo fosse più per me che per te. Poi. Invece per te. Guarda un po' carina. Maglietta. Magliettina. Ha scollatura molto grande. Beh ora molto grande. No la cosa bella mi piace tantissimo perché è morbido. Non è. Sono molto morbidi. Sì. Però questo è molto carino. Vedi questo lo puoi mettere pure sulle gonne. Rimane ovviamente aderente. Infatti. Si vede che si è. Rimane aderente. Rimane aderente. E questo mi piace. Ok. Ho giudicato. Poi. Poi. Tra attimo. Andiamo con. Uno zainetto nero Che penso sia per me Penso proprio di sì È piccolino Con le borchie Con le borchie Niente basta E di pelle nera Questo per te è perfetto È il tuo È il mio Prossimo Roba nera vedo Sì vedo roba nera Vedo roba nera E è una maglietta per me Oh va carina Questa invece è più cortina Rimane più corta E ha lo scollo tondo Perché io ovviamente Io ho detto i colori Io ho detto nero e grigio maggiormente E rosa però E lei ovviamente E lei ovviamente Pink bubble Ti piace? Sì Questa è cortina Carina per te Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Prossimo Poi Poi Che è Una scatolina rosa Con dentro E sicuramente Di mamma E con Ah sì Questo mi piace Un grigio E uno Nero Un cosetto Lo sai cosa sono Questi sono i famosi Anelli pompon Carini Carini Voglio quello nero Ti pare Cioè Voglio quello nero Super Prendo io questo grigio Oh questo qui Io lo volevo Devo dire la verità Lo volevo Bello Questo lo volevo Mi piace tanto No mi piace pure a me Gli anelli di pompon Io non lo conoscevo Che poi queste cose Cioè pure i vestiti Sono scambiabili Nel senso che Posso pure fregargli La maglietta Dai Ok Ti qua l'anello No bello Veramente bello Prossimo Io mi sa che farò Un altro ordine Solo per me Stavolta Gli metterò Tutto assolutamente Rosa e fucsia Un tipo penna Una penna Sì Non è una sola Ma sono due Due pennine Due pennine Uguali Così almeno Non ce le Due pennine Giraffa E una marea Di mascementi Questi sono tutti tuoi Sì Tutti miei Tutti miei Tutti quanti Queste sono bellissime Mi piacciono tantissimo Queste cose bucciosissime E questi 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 Marshmallow Sono dell'Arp Sì Sono i Marshmallow Questi qui Che lei li mette sempre Questi Marshmallow Gli piacciono tanto Io sapendo che a lei Piacevano i Marshmallow Ho fatto l'ordine Da Greta apposta Perché sapevo Che sarebbero arrivati Marshmallow Come sapevo Che sarebbero Arrivate le penne E niente Quindi io Visto quello Che è uscito Dalla mystery box Di Greta Penso che ne farò Un'altra Solo per me No Sì No Sì No Infatti gliela ordino subito Io ordino subito Una Di rosa Non è uscito niente Infatti Io ordinerò Una mystery box Solo per me Tutta roba rosa E fucsia Però Se trovi Marshmallow Quelli sono tuoi Non ti preoccupa Vabbè Dimelo che me Detto ciò Salutiamo tutti Un bacio E al prossimo video Speriamo che Qui Sia Uscito fuori Perché non ce la facciamo più Ciao Ciao Ciao